Un altro rogo nella notte. Questa volta le fiamme si sono alzate in via Indovina a Settefarine. Un incendio ha avvolto la Nissan di proprietà di una donna di 35 anni. Sul posto sono arrivati i poliziotti del commissariato e i vigili del fuoco. Si valuta l'ipotesi dell'azione dolosa. È il terzo incendio di auto nel giro di pochi giorni. Infatti, nella notte tra sabato e domenica, una Dacia Sandero è stata danneggiata dalle fiamme in via Morselli, a Caposoprano. La vettura appartiene ad un impiegato, ma è usata anche dai suoi familiari. Le fiamme si sono alzate poco dopo le 23. I carabinieri del reparto territoriale e i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto. I militari stanno valutando la natura del rogo. Poche ore dopo, i poliziotti del commissariato e i vigili del fuoco sono intervenuti nella zona di Tenutella. In questo caso, le fiamme hanno avvolto una lancia Ypsilon di proprietà di un 28enne che lavora in una struttura ricettiva della zona. I poliziotti hanno avviato indagini.